Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video insieme al giocatore che al momento non c'è Andiamo a vedere non c'è e compare Questa è l'idea Ah ok finalmente metto una notte Buon divertimento Grazie papà e la man Sei davvero molto gentile Eh no no stiamo vedendo i gambrai Eh perché siamo qua secondo te Eh ma che cazzo non lo voglio vedere che ho detto Eh ti ho detto facciamo le reaction sì 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 Vabbè comunque troviamo Ellie che sta nuotando Sa nuotare Oh raga un like Un like che sa nuotare Infatti nei commenti Nel commento di nuovo uno dice finalmente Raga davvero perché qua ce l'ho accetto la Tu hai detto ora abbiamo Ellie che sta nuotando Sta nuotando Raga ma lei deve impararsi a nuotare Quando è con me deve nuotare nel Sa nuotare Visto? Visto? Raga Comunque sta nuotando No non è open world Sì non è open world La mappa è grande però non è open world Che figo non ci credo Wow hai imparato a nuotare E' pure sott'acqua cazzo Ma gioca dai Ma mica sa non ti Raga è messo e me lo pongono davanti Ma Frost ha scritto Guarda me lo pongono davanti E' colpa della mia Frost ha scritto Che salutiamo Ma mica non sa nuotare Nel primo Tu hai giocato al primo grumo Il primo coglione Che non sei alto Sempre con quelle cazzo di zattere Ma che cazzo Che hanno rotto pure il cazzo Che solo Joe Solo Joe Lo sapeva notare Che giova tutto lui Tra gli amici Joe Joe Barbaro Come ti dico Ma c'è tu Che cazzo Come Cristiano No mi sembra la sua madre Che cazzo ne sono Uno zombie credo C'è un infetto Quei persone No forse è una Ah la ragazza È la ragazza Cosa è quello che l'ammazza Come l'ammazza La ragazza Ma sia una tro Ma come fa a giocare A PS Vita In un mondo apocalittico Dove cazzo la carica Pergiunta in una cosa Dove c'è acqua E non ci sono prese Ma la braccia dove cazzo Oh Ah no Stava fissiando Scusa Amore Non ti prendo più Per il culo Scusa E che devo dire Tesoro Eh però guarda C'è il PS Vita aperto Che stanno giocando? Io quando avrò il gioco Sparo la PS Vita Sparo allo schermo Beh PS Vita Sta giocando Hotline Miami Bene Bella pubblicità Eh li dai Deve andare sulle scale Deve andare sulle scale Ma io andai Sto giocando PS V Sai com'è Hai capito? La vita è tutta una salita Chi sale c'è chi scende C'è chi c'è le mani Eh io con lei vorrei salire Ma lei sale sopra di me Eh 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 Scusatemi Io credo che ste cose Dovesti censurare Ho detto qualcosa Ti è sbagliato Ho detto salire sopra di me Eh Non mi pare Che è una cosa scandalotta Ti ho Ninciato Eh Ah no mi sei Che cazzo Ti sono iniziato A bottiglia E c'è per giunta Tre Bambini Ah che adoro Il consumo Il consumo Ma è buonanza Non ti fa aprire No Stattici Mi piace del tuo modo Elocato Di solito i cortelli I cortelli della stuff house Te li faccio a creare Lo stavo per dire Però lei Perché c'hai su Ti ricordi che nel primo Sono di robe Ma ecco No di nuovo il terremoto De Fukushima si sente Sembra quello Un magete No mi sembrava un palo Mi sembrava un magete No Che so È un classico palo Mocco di chiodini però È ma con una molotov No io sono da bottiglia in vero La vedo male per loro Ma io è vero Proprio male male Ma proprio brutto 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 Finisce E quando dico brutto No No Il cane no Brutta Grandissima Viglia di Ma mostri errori Non le devi fare Però dai I cani no Cioè io una volta Raga Parentesi Io All'inizio avevo paura dei cani Da piccolo avevo paura dei cani Moriamo Quindi non me li ammazzare Immagino essere il tuo Godzilla Che l'ha ammazzato Oh entravo nel gioco La sparavo Poverino No Che cosa ha fatto di male quel cane? Ma perché c'è quel cane? Fabela È con la sua Lui ci ha voluto mettere i cani Ah Per la prima volta Picchia Fabela Non ci crede Raga un altro like Oh Gli animali Non si devono toccare Giusto Su questo copio Ma Che cazzo Si è mangiato Come braccio di ferro Con gli spinaci Eh ma Vabbè Se no sto video Non andrà C'è mangiato Cioè si è preso solamente Il caricatore Invece Su De La Sto Pass Si prendeva tutta l'arma Per la prima volta Quando dobbiamo ricaricare Oppure prendere munizioni Si prende solo il caricatore Ed è anche una cosa Più di innovativa Eh perché di solito Si prendono tutta l'arma Raga Io comunque Una lera del giro Non l'avrò mai Se la porto in live Non vi aspettate Gli animali Secondo me questo qua Non lo so Vu Fare il cecchino Da grande Pure la merda La tirata Oh con la pistola Non è l'ingredibile Con la bomba Sbaglia C'è come era Ma lo state vedendo Comunque Io Tutto questo gameplay Da parte mia O sua Dimenticate Non ci sarà mai Io che giocherò Guarda Così questa facendo Adesso Ellie con la mazza Chiudata Lo farà lui Questo è poco Ma sicuro Io no Comunque Ma neanche i super saian Hanno una mira Del genere Il mio google Si è attivato Vabbè Scusa No Mi è felice Beh Non ci passo Vai Gli ha detto Scusa Ti ha risposto Ellie Scusa Vabbè Non è frattempo che lei ha fatto cose di casa Direi che può salire fino a queste scale Dai sali Quella Quella Non si può silenziale Sempre strana Sai cosa Prima lei Comunque l'arco Resta sempre L'arma più bella Sì Sì Ovviamente Sempre Nei cazzo Dei tubi Vanno a fine I personaggi Ma è Se quando ti vedi troppo Oppure Quando c'è Batman È la fogna Guarda Sta mangiando Cucconi Sta facendo Che poi Sta facendo Un casino Della miseria E non lo sento Nessuno Che è la moglie Che è la moglie di Mr. Freeze Premi in triangolo Per aprire la botola In modo educato Complimenti La spacc Ma dopo questi rumori Mi dà troppe emozioni I miei occhi Continuano a guardare Il mio cervello Dice Non guardare Stacca Stacca Lunga vita All'Albania Perché Perché Cosa c'entra Mani in alto Questa è una rapina Giura Muttandina Che Mio compagno Non lo so Ti ricordi di me Guarda questa Guarda Ma lascia Sti cazzoni Guarda qua Senza Faisere Ecco Non mi hai fatto capire La parte finale Ci ha detto Domingo Vieni vicino No 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 Dai Non dislike Non è finito Questo finalmente Benedetto Gameplay Leggi quel commento Un attimo Scusa Leggi qua Leggi qua Comunque direi di finire qui Il video Se vi è piaciuto il video Lasciate dal di like Commenti Iscrivetevi al canale Mi raccomando E scrivete nei commenti Per favore Commentate Scrivete nei commenti Per favore Commentate Per favore Commentate Non è un bel video In cui non riesco più a parlare E soprattutto È un bel video In cui non ci state cacando Condividete Iscrivetevi Tutto il resto Attivate la campanella Ringrazio tizio Fate vedere il video A pure il vostro cagnolino Che è morto poco fa Ci vediamo In una prossima reaction Video O Gameplay Mi raccomando Commentate Alcuna cosa Commentate Fateci sapere Cosa Mi hanno detto Sì commentiamo Non è vero Ciao Ciao ragazzi